La porta del sindaco metropolitano sarà sempre aperta per i colleghi amministratori locali e per i cittadini dei diversi territori. La città metropolitana deve avere una funzione di cerniera fra i territori e sostenere le amministrazioni comunali nel rapporto con la Regione Piemonte. Vogliamo essere un'istituzione amica dei sindaci e dei cittadini, soprattutto quelli più lontani dal capoluogo. Sono alcuni dei concetti sottolineati dal sindaco metropolitano Stefano Lorusso nell'intervento che ha aperto la seduta di insediamento del nuovo Consiglio metropolitano, nella sala Elio Marchiaro di Piazza Castello. Il sindaco ha sottolineato che la ripartenza economica e sociale dell'intero Piemonte non può prescindere dalla ripartenza della città di Torino e della città metropolitana più estesa d'Italia. Lorusso ha parlato di sfide importanti da accogliere tutti insieme, consiglieri metropolitani, amministratori, comunità locali, per aiutare un territorio laborioso. Lorusso ha anche parlato della necessità di rilanciare in maniera forte la dotazione infrastrutturale del territorio, viabile, ferroviaria, telematica. Grazie ai fondi del PNRR, ha sottolineato il sindaco, si sta aprendo la stagione della ripartenza in cui la città metropolitana avrà un ruolo importante. Il valore incredibile che ha la presenza della ramificazione nel nostro territorio e delle piccoli comuni è esattamente quello di un presidio del territorio. I piccoli comuni vanno aiutati, vanno aiutati da tutti i punti di vista, politici ma anche amministrativi. Mi ha intenzione fare in modo che la città metropolitana nei prossimi anni diventi sempre di più un luogo in cui i sindaci, gli amministratori e i cittadini possano trovare risposte alla complessità dell'amministrazione che oggettivamente oggi, soprattutto per un sindaco, è davvero elevata. Al momento di comunicare l'assegnazione delle deleghe ad alcuni consiglieri della maggioranza di centrosinistra, il sindaco lorusso ha spiegato di aver tenuto presenti tre criteri. Quello politico, relativo al peso del gruppo di centrosinistra scaturito dalla tornata elettorale del 19 dicembre. Quello di all'equa rappresentanza di tutti i territori e quello della parità di genere. Vice sindaco metropolitano è il sindaco di Condove, Jacopo Suppo. La città metropolitana come può essere vicina al sindaco di Moncenisi o piuttosto che di Locana o di Praorostino? Guardi, rischio di scivolare un pochettino nelle cose basiche. Io faccio il sindaco di un piccolo comune in Valle di Susa, 4.500 abitanti. Conosco il mio territorio, conosco i miei colleghi amministratori e i cittadini. Le persone chiedono attenzione, chiedono prossimità, prossimità nel senso di vicinanza, essere vicine ai problemi concreti delle persone, i trasporti, le scuole, la manutenzione, strade messe in ordine, territorio manutenuto, presenza. Se partiamo da queste cose che possono sembrare piccole ma in realtà sono fondamentali, faremo un bel servizio per i nostri cittadini e ridarremo una voce forte e autorevole alla città metropolitana.